Musica Bella a tutti ragazzi qui da Predator Oggi sono qui tornato con questo nuovo video tutorial Nella quale andrò a illustrarvi la funzione di questo semplice programma Che si chiama AtubeCatcher AtubeCatcher è un programma che molti youtuber utilizzano Per registrare lo schermo del desktop e fare i tutorial Anche se devo dire che io preferisco Camtasia Ovvero questo con cui sto registrando Perché c'ha la lucina del mouse Che è personalizzabile Come vedete in questo momento l'ho messa gialla E c'ha anche il click come sentite adesso Ed è fatto apposta secondo me per fare i tutorial Cioè è più semplice Poi però ognuno ha le sue opinioni Comunque anche AtubeCatcher registra in una definizione davvero buona E' un programma gratuito Che non è come Camtasia che ha pagamento Eccetera eccetera Ma è un programma completamente gratuito Scaricabile dal sito ufficiale Che vi metterò in descrizione Voi lo scaricate Adesso io non vi farò vedere come l'ho scaricato Uno perché l'ho già installato E due perché avevo sentito che se tipo Lo facevi vedere avevi problemi di copyright E cose simili Quindi non voglio rischiare Una volta che l'avete scaricato Comunque lo aprite E vi si presenterà con questa schermata principale Aspettate che tolgo questo AtubeCatcher Ha Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Sei funzioni La prima Cioè la normal mod Come si può definire questa Per scaricare dei video Cioè voi prendete un video da internet a caso E fate in colla Adesso non badate al canale di RobixNuke Che poco fa l'avevo usato per mettere nella descrizione di un video Ma lasciate perdere Comunque voi prendete il link del video Fate coppia Lo incollate qua con questo pulsante Dopodichè Scegliete qui Il formato Questo qui è il formato che serve per convertirlo Cioè lo scarica E poi lo converte in uno di questi formati Che vedete qui Che sono davvero tantissimi Pensate che c'è anche quello per l'Xbox 360 Per la Wii Per il Nokia N800 Che non so neanche quale sia Perché io Nokia non ne ho mai avuto Oppure potrete decidere Direttamente di non convertirlo in nessun file Cliccando sul primo risultato E si farà questa icona Comunque io vi consiglio sempre Di convertirli Aspettate se lo trovo Nel formato WMW Che adesso non trovo Dovrebbe essere qua Eccolo qua WMW perché è quello Il formato più leggero Ed è anche quello che utilizzo io Per caricare video su YouTube Quindi per chi non avesse una connessione Abbastanza veloce Il WMW è uno dei formati più leggeri Non so se sia il più leggero o no Comunque io qui Vi consiglio di spuntare Queste due Perché comunque il turbo download Il download più veloce E attiva YouTube HD Come vedete qui ci sono anche le finestrelle Con tutte quante le spiegazioni Quando avete finito Di fare tutto Cliccate scarica E il file vi sarà scaricato Dove Nella cartella dove avete deciso di salvarlo Che si decide In base a questo Come vedete io qua ce l'ho Su user video Ma per non andare a pescarli Le imposto su desktop Quindi Vabbè Cioè Queste spunte Lasciate Io le lascio così Poi voi Modificatele in base alle vostre esigenze Comunque Passiamo subito Alla seconda funzione di questo programma Che si chiama Streamcatcher Penso che sia Non volevo dire una cazzata Ma dal nome Penso che sia per catturare le stream Come vedete infatti qua c'è scritto Cominci a cattura Cioè Penso che serva Per catturare video in tempo reale Ma Adesso non vorrei dire una cazzata Comunque Non so bene a che cosa serva a questo Quindi Magari Me lo scrivete nei commenti Oppure vi cercate un tutorial alternativo Dove spiega anche la funzione Il terzo Pulsante La terza funzione Ecco Di questo programma Molto semplice da utilizzare È quella Di registrare Lo schermo Ed è quella che uso Anche io tante volte Ora sto utilizzando Camtasia Perché altrimenti In questa finestra Non avrei potuto farvi vedere Tutto quanto Perché era in registrazione E quindi sto usando Camtasia Come vedete È anche molto semplice Da usare Nel tipo Voi qui ad esempio Selezionate l'area Prendete questo Ad esempio Io posso mettere tutto il desktop Anche se in questo caso Non lo faccio Perché comunque Sto già registrando con Camtasia Oppure selezionate direttamente La finestra Perché si può selezionare Anche direttamente La finestra La cui registrare Quindi anche questo qui È un vantaggio in più Tipo se dovete registrare Dei giochi indie Che comunque Non vi apre in piena finestra Voi fate selezione La finestra E vi registrerà solamente Quel pezzo di schermo Poi Qua È la selezione Del microfono La selezione Della periferica audio Come dice qua E io uso Il microfono Delle Turtle Beach Non quello lì Interno al pc Perché quelli esterni Escono sempre meglio La qualità Cioè la qualità Audio dei microfoni esterni Esce sempre migliore Rispetto a quelli interni E questo qui Penso che Lo sappiate bene tutti Quindi Ragione per cui Uso il microfono Delle Turtle Beach Che è anche Un gran microfono Perché comunque Lo uso sempre Per tutti i miei video Gameplay tutorial Da quando ce le ho Quindi Ma questa qui È una cosa a parte Comunque Io vi consiglio sempre Un microfono esterno Al pc E non interno Quindi Detto questo Niente È solamente Un piccolo consiglio Personale Che vi do io Per Non registrare L'audio Del microfono Basterà togliere Questa spunta Ma io lo aggiungo Perché Quando Devo fare Cioè A Tubecatcher Lo uso sempre Per commentare Cioè Non lo uso Quasi mai Diciamo Se non mai Per Senza commento Quindi Tengo sempre La spunta Del microfono Acceso E Questa È la cartella Dove Saranno salvati I vostri video Io me lo sono messo Sempre nel desktop Perché il desktop Almeno lì Non ti deve andare A cercare Mille file Lì Cerchi nel menu Start Eccetera Eccetera È sempre più Complicato Scusate Più semplice Per quanto riguarda Il terzo passo Non so perché Qui Anche se Cioè Il formato Di uscita Del video Sarebbe Il formato In cui esce il video Che comunque Sempre Vmv Un buon formato Comunque Io non capisco Perché qui Non si possa selezionare Quindi Non chiedetemi Perché Non lo so Magari Nell'altra versione Selezionabile A me qui Non me lo fa selezionare O magari Devi settare Il programma In una maniera Diversa Non lo so Comunque Tralasciando Passiamo alla quinta opzione Di registrazione Ovvero Ferma dopo 60 secondi Vabbè Ad esempio Ferma dopo Ovvero Voi iniziate la registrazione E Dite al programma Stop la registrazione Entro Questo tot Di secondi O Di minuti Vabbè Secondi Per cui c'è scritto Solo secondi La partenza In ritardo È un po' come quella Di Camtasia Recorder Che fa 3 2 1 E in pratica Sono I secondi Prima di iniziare La registrazione Quando permette Il tasto start Però io Non le utilizzo Perché non è vero L'utilità Se potessi Lo toglierei Anche in Camtasia Questa cosa Però non so Come si faccia Penso che non si possa Quindi Non lo faccio Riduce all'avvio Non so che cosa Significa Magari Tipo Inizia il video Cioè Vi ricordate Tipo Partenza In ritardo Che parte In ritardo Invece Questo qui Parte Puntuale Parti subito Quando premette Il pulsante start Ma magari Si Cioè Fa qualche Secondo di ritardo Quando permette Il pulsante start Forse ho detto Anche sicuramente Ho detto una cazzata Perché comunque Non le ho mai provate Io queste spunte Di solito Ho lasciato sempre Così preimpostate Toccato solamente Queste cose qua Quindi Il registra mouse Io vi consiglio Di tenerlo spuntato Perché in pratica A tube catcher È un programma Che Se non sbaglio Non è come Camtasia Che ti registra Il cursore bianco Lui non te lo registra Fa solamente vedere I pulsanti Come si premono Non ti registra La freccetta bianca Che state venendo adesso Quindi io vi consiglio Di tenere la spunta Attiva Queste Spunte Non so che cosa Servono A parte Finestra Finestra migliore Finestra top Che comunque Non so Ma che cosa serva Magari No Sinceramente Non lo so Perché comunque Vi ripeto Queste qui Sono tutte cose Che non ho mai toccato Io tocco solamente Queste Di solito Perché comunque Le altre Non sono utili Per registrare Quelle principali Per registrare Che vi servono Sono fino a registra mouse Per il resto Potete anche Lasciare il predefinito La quarta funzione Di a tube catcher È quella Di convertire I video Come dice La spunta Video converter In pratica Vabbè Qui lo sapete In pratica Voi inserite Il video Qua In questa tabella Qua Adesso Se avessi un video Ve lo Farei vedere Ma Purtroppo Aspettate che cerco Adesso Adesso Provo con Questo La mia vecchia intro Lo aggiungo qua Ecco qua E una volta Che l'avete aggiunto Come vedete Tutte queste righe Sono per aggiungere Il video Quindi più di uno La potete aggiungere In una volta Se volete convertire Più file In una sola volta Ovviamente Ci metterà di più Qui scegliete il formato Che io vi consiglio Sempre alla fine Vmw Perché è quello più leggero E fate Converti Aspettiamo Che il file Venga convertito Come vedete Fa in fretta Perché dura 10 secondi La mia vecchia intro Quindi a posto E qui Scegliete sempre Come al solito La cartella Di installazione Del file Che comunque Io vi consiglio Sempre il desktop Perché è sempre Meno complicato Da cercare Almeno Max Questa qui Sarebbe il massimo Formato di conversione Ovvero Penso che sia Tipo Voi mettete qua 3 video Questo qui è il limite Qui lo potete regolare Per un massimo Di fino a 10 video Per un massimo Di 10 video La Quinta funzione Se non sbaglio Ok Sì La quinta funzione È quella di masterizzatore E questa qui È una cosa in più Per comunque Avere un masterizzatore video Che è gratis Non come nero Magari che si paga Eccetera Eccetera È una cosa Molto buona Anche perché Comunque Ricordiamoci Che è un programma Molto 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 Semplice D'utilizzare Non è che sia Una cosa Molto difficile In pratica Adesso io Questa funzione Non ve la posso far vedere Perché comunque Non ho un disco Comunque Per installare Cioè sì Per farvi vedere Come masterizzare Eccetera Quindi Comunque sia È una funzione in più Che potete utilizzare Però Io Di solito I cd Non li masterizzo mai Quindi Anche Cioè Anche se volessi Comunque adesso Non ve lo potrei far vedere Perché non ho un cd Da masterizzare Quindi Comunque è molto semplice Cioè Voi mettete qui Il cd Qui vi compaio Il file Penso Ehm Comunque anche Un dvd vuoto Quindi addirittura Annunci di dvd Scusatemi E niente Qua Poi Una volta che avete inserito Il dvd Penso che vi guidi lui Perché sarà molto più semplice Quindi Io questo non ve lo so spiegare Perché come vi ho detto A tube catch L'uso principalmente Per registrare Cioè Per usare Queste Cioè Per queste spunte La prima La terza La quarta E La sesta E comunque Io Come ripeto Non ho mai masterizzato cd E per ora Non ce le ho da masterizzare Quindi per questa spunta Siamo apposta Anche qua La sesta funzione Ma non importante E il registratore dell'audio Anche se io c'ho già Audacity Che secondo me È migliore Comunque ripeto Non c'è sempre una funzione in più Per non installare mille programmi Qui si sceglie La periferica audio Che io uso sempre Il microfono delle turtle beach Volume master Che è l'unica opzione disponibile Catture audio Da altoparlanti Che presceglie Tipo Eh Sì Il solito Anziché registrare il microfono E basta Vi registra solamente Quello degli altoparlanti Qui scegliete Il formato video Che io vi consiglio Mp3 Perché è quello migliore Tra questi tre Qua scegliete Se è mono o stereo Io ovviamente Vi consiglio stereo E queste qui Lasciatele invariate A meno che Vi consiglio Lasciatele invariate Che dovrebbero essere Già le migliori Qui decidete il volume E comunque Queste qui Lasciatele invariate A meno che Non abbiate Sempre Dipendere dalle vostre esigenze Comunque Io le lascio invariate E Qua è sempre Dove salvare i file Che uso sempre Il desktop Come vedete Qua la spunta Era già Per il resto Cioè Per il resto Io vi consiglio Di lasciare sempre Comunque Tutto quanto Come di base Per quanto riguarda Qua Niente Cioè La fine Non è che Serva Queste qui Devono servire a voi Sono cose Che comunque Servono a voi Che utilizzate Il programma Io Come ho detto Non lo utilizzo Tantissimo Ad esempio Qua C'è di a youtube Perché comunque È un convertitore video Quindi a seconda Delle vostre esigenze Sempre dovete regolare Il programma Quindi Come conclusione Posso dire Che a tube catcher È un'ottima alternativa A camtasia recorder Anche se io devo dire Che preferisco questo Perché Preferisco camtasia recorder Perché almeno per fare i tutorial Perché è più completo C'ha più cose Come ho detto La lucina del mouse Eccetera eccetera Comunque Tube catcher È un'ottima alternativa Che secondo me Supera anche camtasia Perché non è Come ho detto Solamente un registratore Ma Fa 6 funzioni Che comunque Non sono da niente Perché comunque Invece che scaricarvi Mille programmi Come nero Audacity Cetera eccetera Quelle cose là Vi scaricate tube catcher Che pesa anche Molto poco Ora ve lo dico subito Sbagliato Pesa molto poco Qua non me lo dice Aspettate Non so perché Non me lo dice Comunque Ve lo posso garantire Che pesa davvero poco Qualche mega Pesa Cioè Installate qualche mega Nel vostro pc E vi toglierete davvero Da mezzo alle scatole Tanti problemi Perché comunque Per una persona Che magari Non ha Una Cioè Non ha voglia Non ha voglia Non vuole spendere Quegli euro Per Camtasia Anche se Hanno fatto Tanti tutorial Per le crack Che infatti Io me la sono scaricata Questa qui Non originale Perché Cioè ragazzi Non mi sembra giusto Spendere soldi Per dei programmi Quando con quei soldi Potrei spendere qualcosa Per youtube Ad esempio Il game capture E nuove cose Nuove microfoni Per la qualità Eccetera eccetera Quindi Io vi consiglio Di installare la tubecatcher Ripeto che il link Ve lo lascerò in descrizione Detto questo Vi lascio Vi lascio Quindi mettete mi piace Iscrivetevi E commentate E bella ragazzi Ciao ciao